Bene, buonasera. Ora leggiamo il testo di questa lezione estremamente impegnativa, almeno quantitativamente. Nella sua introduzione a una ristampa del piccolo Alpino, apparsa mentre si succedevano le puntate televisive della versione del romanzo, il grande Oreste del Buono scrisse che Giacomino andava collocato accanto a Giannino Stoppani. Aveva avuto una delle tante sue memorabili intuizioni, anche se non è dato sapere ormai, scomparso da tempo ODB, se il direttore di Linus conoscesse gli altri due libri in cui prosegue la narrazione delle gesta del giovanissimo eroe, l'altra guerra del piccolo Alpino e il piccolo legionario in A.O., che sta per Africa orientale ovviamente. Con il ciclo dei vela, Gotha aveva condotto una famiglia italiana dagli albori del risorgimento fino alle vicissitudini di un novecento osservato con minuziosa attenzione. Abilissimo nella scelta di un punto di osservazione piccolo, marginale, non compromesso con altre presenze, Gotha sa guardare entro gli spazi storici dove non si colloca l'attenzione dei grandi registratori di eventi. Anche se i tre libri sono per ragazzi, in essi si apprendono vicende poco note, si conosce spesso il cosa c'è dietro con una precisione di dettagli che si trova raramente in tanti scrittori. Testimone dal basso di grandi gesta, Salvatore Gotha non si vietò la descrizione anche della miseria, dello sconforto, della paura. Nel suo troppo poco noto Macerie a Portofino, non c'è più l'eroismo delle trincee alpine, c'è il cupo oscuramento dei rifugi antiaerei, c'è la fame degli sfollati. Con Giacomino non si sono mai fatti i conti davvero. Sarebbe necessario collocarlo davvero nell'infanzia in guerra, soprattutto per operare un confronto. L'infanzia è in guerra anche adesso, su molti fronti, dentro molte trincee, ma non trova facilmente un narratore capace di portare al fronte Giannino Stoppani. Questa è una scommessa inattuale, degna di grande attenzione. E la bibliografia mette in evidenza, lassù in alto a sinistra, la prima edizione del Piccolo Alpino, alla quale ne seguirono un centinaio, sempre con molti, molti, molti volumi, 1926. Segue l'altra guerra del Piccolo Alpino, questa è la prima edizione, e il Piccolo Legionario in Africa orientale. Poi c'è una felicissima uscita che a un pedagogista come me dà tantissimo. Una giovane studiosa che purtroppo non conosco, Laria Gabusi, quest'estate, è arrivata alle edicole, non alle edicole, alle librerie, con i bambini di Salò, il ministro Biggini e la scuola elementare nella Repubblica Sociale, 1943-1945, Scaolè 2018. Dico finalmente, perché questa non prende in giro gli studiosi, non sfotte i lettori. Questa è andata a studiarsi uno dei più micidiali strumenti didattici, l'ho avuto anch'io, era un diario quotidiano che veniva passato ai direttori che dovevano da lì valutare chi eri. C'era una mia collega che giurava di aver sempre scritto il direttore è un cretino, in tutte le pagine, tutti i giorni, durante 210 giorni di lezioni, ma non ci ho mai creduto. Io cercavo di compilarlo il meglio che potevo, ma pensate, una studiosa di questi anni di facilità, di assurdo buttar via tutto, che va a leggersi i diari degli insegnanti di Salò, merita tantissima considerazione e si riaprono delle speranze che se ci sono studiosi giovani così possiamo tirare un po' il fiato. In ogni modo lo raccomando moltissimo perché a me, che sono del mestiere da moltissimo tempo, è sembrato un grande libro. E poi ci sono i libri del tentativo di fascistizzare la letteratura per l'infanzia. Il famigerato Saettino Purosangue Meneghino di Gino Chelazzi, altri testi sempre del famigerato Chelazzi, tra cui Jim Ragazzo Abissino, e poi li mandano alla guerra di Spagna, vanno un po' dovunque. Si ha il grande dramma piccoli eroi e via con gli eroi fanciulli del Grappa, il piccolo soldato della grande armata perché ormai il fascismo non c'è più e quindi si torna indietro e poi improvvisamente uno straordinario romanzo che bisognerrebbe ristampare. Chi come me ha avuto la sventura di viverli questi giorni da bambino trova in macerie a Portofino di che tremare perché purtroppo è vero, vero, l'amico carissimo Walter Focresato è un vero specialista nel raccontare la guerra attraverso il visivo e fra poco vedrete queste straordinarie illustrazioni di Nadir Quinto che dopo questa prova stupenda diventò poi il grande protagonista delle storie a fumetti del Corriere dei Piccoli anch'io intervengo con il testo che è in mezzo perché il capitolo Balilla scoprono il Ballun nel mio guardare le figure con una recente terza riedizione tocca proprio questi argomenti e in primo luogo fedele all'idea che sia una buona cosa leggere poesie che all'inizio o prima dell'inizio in modo da beneaugurare faccio un passo indietro e racconto un'altra storia prima di leggere la poesia che è collegata con questa storia è una scrittrice italiana che andrebbe di più ristampata e non è per niente ristampata soprattutto letta ma ancora di più studiata è Margherita Sarfatti grande conosciutrice d'arte tanto che fondò un movimento artistico di cui fu l'unico teorico il novecento è italiano ed è opera di Margherita Sarfatti ebrea ricca ebrea di Venezia e ovviamente torneremo su questa caratteristica ha come marito il Sarfatti appunto che è un ricco commerciante un ricco mediatore di affari e ha un amante che è socialista come lei si frequentano moltissimo lei vive più nella Milano di lui che nella sua Venezia e lui si chiama Benito Mussolini deve un po' mettere a posto perché lui è un romagnolazzo di predappio lei invece è una nobile donna di Venezia quindi gli regala le cravate gli fa mettere la cintura dentro invece che fuori dai calzoni e così via ma da socialisti entrambi gli consegna anche certi libri come sarebbe Sorel per esempio o altri socialisti tedeschi e francesi quindi ne aumenta il calibro nel partito tanto che lui diventa il direttore del loro giornale Lavanti Margherita ha un figlio che adora si chiama Roberto Sarfatti e appena la guerra comincia questo splendido figliuolo che è uno dei bimbi del giornalino della Domenica già ricordati quindi è un fratellino di Giamburrasca perché il partito del giornalino della Domenica ha due tipi di adoranti le bambine che si chiamano mezze signorine e i bambini che si chiamano grilli infatti si fa la festa in maggio a Firenze riunendo le mezze signorine e i grilli di tutta Italia appena la guerra scoppia approfittando del fatto che è più alto della media dei suoi compagni si precipita a Bologna un poco dietro il posto è ancora identico sono cambiato solo il nome la chiesa dei servi e chiede di essere arruolato nei bersaglieri il colonnello lo guarda ridendo e gli dice Roberto tu non sai che conosco la tua mamma e il tuo babbo e adesso per un'orecchia ti riporto a Venezia vedrai che ci sarà bisogno anche di te ma non adesso che non serviresti appena torna a casa scappa di nuovo questa volta non c'è uno così intelligente e lo arruola negli arditi in una delle uscite di notte con la camicia nera e la bomba a mano viene falciato da una mitragliatrice austriaca Margherita non si dà più pace e a partire da questo è l'edizione originale raccolta di poesie che si chiama I vivi e l'ombra l'ombra e Roberto farà della morte del figlio una causa a livello tale che per potere far sì di combattere chi insulta i nostri soldati vicino al suo amante in piazza Sansepolcro gli dà questo suggerimento ad opera la camicia nera degli arditi vedrai che servirà è la nascita del fascismo il 23 marzo del 1919 che non ci vede pronti a ragionare a studiare a pensare soprattutto che gli eventi negativi tendano a ricomparire nella storia magari con vesti che li rendano indecifrabili Margherita scriverà la prima biografia di Mussolini Dux e confiderà il suo dolore immenso per la morte di Roberto a questo libro I vivi e l'ombra lei avrà sempre un'ombra vicino nel 38 all'inizio delle persecuzioni ebraiche va a stare in Argentina sopravviverà e scriverà un memorabile testo davvero interessantissimo dal titolo programmatico Acqua Passata nel 46 morendo non tanto tempo dopo una delle poesie che Margherita ha dedicato al figlio Roberto era un abilissimo critico d'arte storica dell'arte una pugnace dichiarativa di poetiche dell'arte ma era anche una poetessa di gran livello anche i suoi libri sono importanti difficili però perché adopera la tecnica molto francese molto post-prustiano dell'allusione dell'allusione non sempre facilmente decifrabile perché era un intellettuale di grande livello i reali di Francia di Margherita Sarfatti e ti lessi una volta mio bimbo di buovo e di rissieri a svagarti lunghe ore febbrili tumultuavano cavalli risplendevano armi e castelli coronavano i prodi le belle ugliana e drusiana regali donzelle sospiravi smaniando nel letto la brava avventura lancia e spada allora sì bella la vita oggi scorre passeggiata noiosa per le vie troppo comode intento ai primi palpiti e agli ultimi giochi ti colse la voce in piedi balsasti e tu ancora da nessuno chiamato tra le armi ed i triboli breva e dura si svolse la tua strada e buovo d'antona appoggiato all'alto destriero ti conobbe minor fratellino nella leggenda te accolse meno aspra del vero la madre disperata che pensa alla ragazzino in vano morto in vano due volte nel senso che i reduci sono insultati i conti con questo ricente episodio non si fanno e quindi il libro è pieno di una sorta di doppia sofferenza l'onor di morire così alte le stelle quella notte nel cielo d'Italia così forti nei cuori le voci d'angossia il nemico è alle porte il nemico il nemico è già qui tu fissavi le stelle nel cielo ascoltavi il silenzio brulicante di germi nei piani e sui monti d'Italia combattere mamma difenderci mamma morire mamma mamma l'onore di morire o mio figlio bellissimo e forte o tu biondo o tu dolce o tu fiore del cuore materno sopra i monti d'Italia conquistasti l'onor di morire nel sogno di Margherita Sarfatti ha ritornato e sapevo che eri tu morto e sapevo d'averti io perduto pur guardavo il tuo volto di rugiato brumoso non osavo pensarti io più così bimbo sfolgoravi di gaia bellezza dopo tanto un sorso alla sete che di te mi divora con pie labbra baciarti ma lieve tremavo svanissi al mio bacio o stringerti ancora non forte tremavo di stringere il vuoto come larva saresti sapevo di rugato col canto del gallo e te ora godi ammonivo me stessa attingi un'eternità di conforto a questa fugace certezza che un Dio te mandi una notte pietosa me inluda torna figlio visita ancora il mio sonno ridi ancora al segreto mio pianto al tuo riso di consio fanciullo lassi ancora che tremi il mio cuore prozernato in ginocchio a te innanzi e c'è ovviamente molta altra dimensione poetica di questo tipo inserita un tempo in varie poesie con insospettabili autori perché questa è di Umberto Saba e Saba noi tutti che lo amiamo rimpiangendo che l'Accademia svedese combinando sempre se le ratezze non gli ha dato mai il Nobel pensiamo che sia strano che Saba parli di soldati perché è il poeta dei crepuscoli è il poeta del mutare di stagione della sua trieste ma questa poesia fa riferimento anche se lui non lo sa lo so io a Sarfatti perché è ambientata a 50 metri dalla caserma dove si consumò l'errore assurdo di arruolarlo ragazzino la poesia si chiama bersaglieri ed è di Umberto Saba dalle prime due parole si capisse dove si svolge qual è la città piazza piazza aldrovandi e la sera d'ottobre hanno sposato le bellezze loro ed è felice l'occhio che le scopre l'allegra ragazzaglia urla e schiamazza che i bersaglieri con le trombe d'oro formano il cerchio in mezzo della piazza io li guardo dai monti alla pianura pingue e a quell'ora nell'aria è il male convengono a una sola vita dura a un solo malcontento a un solo tu orquivi a un cenno dell'orca porale gonfian le gote in fior di gioventù ha visto i bersaglieri in piazza aldrovandi e li ha descritti in questo modo vediamo ci deve essere ancora qualche prodotto poetico e se no passiamo all'esame di gotta no siamo a posto ecco questi testi è chiaro che questa lezione non va bene in termini di tempo qui c'è materia per un anno intero per tutte le 25 lezioni per tutte le 50 ore e ci vorrebbe un tentativo a cent'anni dal 19 l'ultimo anno ma anche il primo a seconda come non si guardava perché i reduci sono personaggi difficili da riambientare e in effetti i libri come quelli che ha creato gotta si deve dire che nascono essenzialmente dal fatto che sul piave c'era andato anche lui e fra l'altro con una dimensione molto onesta perché parte e fa l'alpino ma non è un guerra fondaio e dichiara non è il mio mestiere vado perché devo ma spero nella pace e continuo a sperarci perché è da due seguiti cioè lo manda in Africa orientale e poi lo spedisse anche ma è l'inverso prima lo manda qui altra prima edizione il piccolo alpino che fa l'altra guerra questo è il piccolo alpino squadrista e questo è il piccolo alpino legionario d'Africa non è Rasi non è Giacomino per una ragione molto pedagogica deve avere sempre la stessa età e se fosse Giacomino Rasi invece avrebbe 20 22 anni e sarebbe di leva e non ci sarebbe nessuno sforzo volontaristico nella altra guerra del piccolo alpino qual è l'altra guerra è che diventa uno squadrista si mette la camicia nera bastonare a destra a sinistra a distribuire olio di ricino e quindi l'altra guerra è quella che dura dal 23 di marzo del 19 dal 28 ottobre del 22 ed è qui tutta raccontata naturalmente non è più il piccolo alpino è un coetaneo e la stessa cosa è un coetaneo anche questa è la prima edizione il ragazzino che compie un itinerario veramente molto puntiglioso da far pensare al fatto che Gotha capisca molto anche di pedagogia non solo di letteratura e di storia perché è un ragazzino che sta bene che vive a Marsiglia con il babbo orfano doverosamente le madri vengono sempre fatte opportunamente sparire dall'arraverso di quello che accade con Margherita le madri non ci sono mai è legato al babbo che fabbrica ponti dopo Genova la sia molto perplessi ed è una bravissima persona anche sul piano educativo però a Marsiglia c'è un po' di razzismo verso gli italiani ho usato un gioco a ribasso c'è uno stomachevole razzismo verso gli italiani il protagonista ne prende nota è proprio in questo razzismo che impara che stanno per fare qualche cosa contro gli italiani cioè spedire in Etiopia ai nostri nemici perché è in atto la guerra d'Etiopia un gigantesco peroscopo carico di armi da usare contro i legionari fascisti e lui gli va dietro e fa saltare il piloscafo però nessuno è perfetto purtroppo salva il capitano il nostro uomo e tutto l'equipaggio con un trucco pacifista e li obbliga a lasciare la nave già pronta a saltare in aria poi vivrà tutta la campagna d'Africa da eroico erede del piccolo alpino una triade interessantissima che non ho mai intenzionalmente assegnato come tesi perché non ho mai trovato nessuno capace di fare il lavoro che ci vorrebbe bisogna studiarsi la guerra d'Etiopia al millimetro studiare le interferenze delle potenze nemiche con spedizioni e quant'altro studiare l'Europa del tempo e quindi lavorare lavorare moltissimo diverso è il caso in questa letteratura di propaganda politica che dovrebbe richiedere un settore apposito e non ce l'ha nella letteratura per l'infanzia anche perché capitano cose di questo genere tanti anni fa ho proposto a Umberto Eco di stampare un libro comunista per l'infanzia si chiama Biancheggia vela solitaria ed è di uno che combatte con i bolsevichi è talmente bello che è fuori genere l'hanno passato in zona adulta perché è uno dei più bei libri del novecento ma non per bambini è un libro genio sono due bimbi russi che assistono a tutti gli episodi e loro non lo sanno che lo è della corazzata Potionkin senza sapere poeticamente cosa stanno vedendo e dopo il massacro nella famosa scalinata del film il libro finisce con un accorato poetico appello a un avvenire che però non deve essere precitato perché non siamo nel 18 cioè all'inizio della rivoluzione ma siamo nel 5 cioè l'anno della scalinata ci sarebbe tutto un lavoro da fare su la guerra nei libri per ragazzi perché servirebbe non solo a valutare un genere letterario e una grande una grande componente della pedagogia perché è chiaro che anche in questo momento ci sono bambini guerrieri sparsi per il mondo ci sono convincimenti ci sono dei dettagli non dissimili a quelli che sono qui dentro in tutto questo insieme di prodotti e abbiamo appena visto che c'è una nuova dimensione di arruolamento scusate il piccolo alpino se l'è un po' presa non l'ho proprio trattato come ambiva lui di essere trattato anche in questo momento ci sono dei problemi di questo stesso tipo e alcuni di questi libri hanno una nascosta attualità politica questo si chiama grande dramma piccoli eroi sono due piccoli italiani che vanno a combattere contro i comunisti in Spagna nella guerra civile di Spagna e quindi il grazie molti grazie nel riguardarli con la mentalità di oggi fanno venire tutta una serie di dubbi fanno sorgere tutta una serie di riflessioni che io qui un po' riassumo un po' propongo perché avendo fatto il maestro mi sono posto direttamente questi problemi come si fa con i bambini e soprattutto con le bambine si dice le capirai quando sei grande è in gara per essere il discorso pedagogico più cretino della storia della pedagogia dai presocratici fino ai nostri nessun bambino nessuno bambino accetta un discorso così e ovviamente fa benissimo chi sono i carbonai dopo un filmato televisivo a Bologna ce ne furono parecchio potrei mettermi a ridere dire che sono quelli che vendevano il carbone perché in effetti le loro logge segrete si chiamavano le logge dei carbonai le carbonerie finì che facemmo una commedia il direttore che aveva combattuto a Ela Lamein diceva ho più brividi a vedervi recitare ho più brividi a leggere i vostri copioni che quando combattevo perché bisogna fare dei patti non si può pensare che un bambino o una bambina di quinta pensando ai carbonari bolognesi abbiano una voluta sociopolitica ce l'hanno bastonatoria quindi bisogna metterci o la registrazione della commedia i carbonari non ci si deve negare però non si possono fare cose di questo genere non si possono perché questa non è propriamente storia questa è propaganda nel senso che le modifiche alla guerra fatte nella dimensione del rifacimento sono talmente rilevanti da costringersi a entrare in lotta con lui qui ci sono bugie storiche e di non poco peso e servono a una propaganda che circola in tutti questi libri la cosa curiosa è sempre che tutti i libri fascisti che possiedo me li ha regalati un capo partigiano la storia mi ha detto in dialetto quando muoio dato che hai lavorato tanto per lampi ti troverai un regalo e infatti mi capitò un paccone di libri non li ho comperati qualcuno li aveva collezionati per me ripeto per fortuna che ci sono giovani storiche che fanno libri come i bambini di Salò però non lasciamo le sole in alcun modo perché bisogna andare a vedere che cosa succede e cosa succede lo dico con tremenda amarezza perché questo invece è davvero un grande romanzo ed è Macerie a Portofino è casa sua è il 1945 44 la guerra sta finendo ma sono i momenti più tremendi perché tutte e due gli schieramenti si impegnano con una violenza che è oltre ogni dire non era uno scrittore da poco fin qui non l'ho trattato come meritava ha scritto qualcosa come 85 romanzi è stato sempre ostinatamente trascurato dalla critica il pubblico invece l'ha premiato e aveva una capacità qui mi rendo atto del fatto di avere ricreato i rifugi proprio come li ho purtroppo vissuti io questo è l'inizio di Macerie a Portofino dopo Macerie a Portofino si vede che non sapevano come sistemarlo e come sparì solo che era nascosto in un posticino che per un maestro era perfetto cioè faceva una rubrichina di risposte scientifiche sul mensile e poi settimanale topolino e io le copiavo a man bassa perché erano fatte benissimo e le proponevo nelle mie classi tanto che gliel'ho addirittura anche scritto e lui ho scritto variamente come fosse ridotto perché la signora di tutti una signora molto generosa di sé è un libro che col piccolo alpino ha ben poco a che fare la copertina è del sommo Walter Molino quello che faceva le copertine e qualche volta anche gli interni dei fotoromanzi questo è un libro tremendo addio vecchio piemonte non sono ancora riuscito a capire se è l'ultimo che ha scritto è vissuto molto è morto negli anni settanta in addio vecchio piemonte c'è una sfacciatissima ricostruzione di una delle figure più tremende del nostro risorgimento il conte solaro della margherita il conte solaro della margherita era uno degli uomini più colti d'europa era stato consultore di re carlo alberto e si era fieramente dimesso quando aveva concesso lo statuto al popolo non si deve dare lo statuto al popolo si devono dare delle cannonate se non sta buono insomma il conte solaro della margherita era uno degli uomini più colti e più reazionari d'europa e avergli dedicato quello che forse è l'ultimo libro che si chiama Addio Vecchio Piemonte è una scelta che non ha dichiarazione di poetica cioè non ci ha detto perché l'ha fatto qui invece si trema Memoriale di una donna che ha ucciso è un'autobiografia di un'assassina in carcere spietata come poche volte ho letto leggendo di assassini di delitti di gialli e così via quindi non uno da dimenticare i vela sono tutti qua dentro cominciano nel di lì invece ne sono altri quattro solo che gli altri siate a casa i vela attraversano tutta la storia d'Italia dal proto risorgimento fino alla fine della seconda guerra mondiale e li fa vivere tutti elencandoli tutti portandoli di un personaggio stranamente scomparso perché in realtà per me Materia Portofino è un libro adattissimo al presente questo è l'inizio spinse il battente della porta che si aperse mostrando l'interno di un'anticamera cupa d'ombra entra disse l'uomo che stava sullo scalino superiore alla soglia a cui la fanciulla si era affacciata e la esitò nell'anticamera non c'era nessuno in fondo alla ripida scala si vedevano due ragazze come in attesa il rombo degli aeroplani si fece più distinto e minaccioso le mitragliatrici della penisola cominciarono a sparare la fanciulla si decise a entrare nella casa ignota seguita dall'uomo è permesso e gli disse ad alta voce s'avviò in fretta verso una porta aperta nel fondo dalla quale entrava la viva luce del mattino soleggiato in un piccolo vano di passaggio oltre il quale si intravedeva un tratto di giardinetto chiuso fra gli alti muri decrepiti una cameriera stava stirando indifferente a malapena ella si alzò e poi alzò il viso a guardare per vedere i due nuovi venuti le mancava un dente incisivo ci hanno detto che qui c'è un rifugio lì rispose la cameriera accennando a una porticina che si apriva di fianco a un divano letto accostato al muro dalla parte del giardino tanto l'uomo che la ragazza dovettero curvarsi un poco per passare attraverso la pusterla aperta e bassissima arcuata insomma aperta in un muro di cemento armato di costruzione recente spesso quasi come quello di una fortificazione blindata entrarono in un angusto vano antisofio dove fra pareti di roccia viva nerastre biancheggiava un frigorifero sesero una scaletta di legno assai ripida nell'interno di una cisterna ovoidale molto illuminata in fondo alla quale su panchette di legno disposte torno torno sedevano uomini e donne di varietà e condizione gente del popolo una signora bionda e vistori in accoppatoio bianco un'altra in vestaglia azzurra un giovane in camiciotto azzurro stinto e pantaloni a cachi una bambina di due anni bella come un putto di della robbia tenuta in braccio da una ragazzina dal volto di zingara impressione vaghe e frettolore per due nuovi venuti che guardati con stupore e curiosità dal basso in alto cercarono di nascondere le loro timidezze ballando dove mettere i piedi negli stretti gradini di legno timido apparve soprattutto l'uomo non appena ebbe toccato il fondo della cisterna egli poteva avere una quarantina d'anni un poco calvo a somma del capo portava grossi occhiali a stanghetta di tartaruga elegantemente vestito alla cittadina la ragazza invece dove essere giovanissima vent'anni o poco più i capelli aurei e lucenti sotto la nuda lampadina pendente da un filo le sfioravano le spalle la plasticità della donna in fiore restava sorpresa per la luminosità che ne purificava la dovizia chiediamo scusa l'uomo disse vorrei conoscere il padrone di casa ringraziarlo il giovane incamiciato azzurro e pantaloni cachi si alzò dalla panca sorridendo e tendendo la mano grazie l'uomo continuò stringendo quella mano ed inchinandosi un poco con dei movimenti impacciati abbiamo approfittato del rifugio una vera fortuna la signorina paura presentò la signorina frasso Elena frasso mia nipote il signore scusi che non ho ben capito il suo nome rabbistano polli aggiunse la signora in accappatoio bianco ridendo anche altri tra i presenti ridevano mi chiamo Paolo Paolo rabbistano ma mi chiamano polli per versediativo non c'è nulla da ridere ma rideva anche lui nella sua aperta faccia gioviale veramente il suo nome più appropriato sarebbe trimalcione interloqui un giovane Bruno in pantaloni di tele azzurra e maglietta bianca in quale stava leggendo un giornale al lume di una lampadina l'allegria che toccava tanto i signori quanto la povera gente ricoverata in quella cisterna parve animare anche i due nuovi venuti la signorina carassò i biondi riccioli della bimba l'uomo si guardò intorno fiducioso gorendo di sentirsi in buona compagnia fra gente non ostile doveva essere di quelli che ovunque si recano per prima cosa cercano la solidarietà umana il timore di non trovarli di rendere timidi e incerti sul suo volto era evidente tanto la bontà quanto il bisogno dell'altrui bontà nonostante la bonomia che era nello sguardo e nel suo mite sorriso nessuno fra i presenti credette che gli fosse lo zio della signorina qualcuno aveva già notato la strana coppia qualcuno l'aveva visto arrivare la sera dietro in carrozza ora si venne a sapere che i due abitavano al terzo piano del casamento avevano preso in affitto l'appartamento della signora Fiorelli sovrastante quello dei rabbizani si informarono se nel paese i viveri scarseggiassero o no si si trovava ancora di tutto ma a prezzi sbalorditivi come dovunque bisognava organizzarsi contavano di mangiare in un ristorante affinché fosse possibile non sapevano che il paese era già stato bombardato due volte la chiesetta di San Giorgio era stata completamente distrutta l'avevano vista quella che tristezza il santo però aveva fatto il miracolo attirando tutti nella sua casa tutte le siegure purché fossero risparmiate vite umane nel paese che era lui tanto devoto dov'è che mi sembra molto bravo nel rendere si tratta di 600 giorni perché dal momento in cui viene proclamato l'armistizio dell'8 settembre del 43 alla insoluzione generale del 25 aprile del 45 i giorni sono 600 cosa accade in queste zone d'Italia queste portofino casa sua dove aveva la casa lui si perde un po' la ragione c'è un senso di follia che ho visto pochissime volte riprodotto neanche nei grandi capolavori del neorealismo che si sono occupati di questi 600 giorni l'unico che da bambino che c'era salvo è il generale della rovere perché De Sica è un gigante tale da prendersi totalmente su di sé l'idea del racconto della guerra nelle città con i bombardamenti per noi era la prima volta perché nel 15-18 tranne le città di confine e tranne poco spazio dopo la caporetto non ci fu nulla ma Bologna era rasa al suolo è difficile pensare a un bambino di sei anni che non trova l'archiginario che non trova la mercanzia che non trova l'ala prospicente a Santo Stefano che non trova l'intero caseggiato che formava all'interno di Via De Chiari questo era il mio passeggiare a sei anni lo racconta straordinariamente bene a partire da questa dimensione della follia di guerra che sa rendere straordinariamente bene ma come ci comportiamo di fronte ai romanzi politici per bambini bisogna fare un passo indietro Mussolini che non dimenticava mai di essere stato un maestro elementare seguiva l'operato dell'editore Nervini che stampava pionieristicamente i fumetti americani e a un certo punto chiese a Nervini di non stampare più le gesta fantascientifiche di Gordon perché aveva intuito che nella ribellione a Gordon c'erano le tracce di una possibile ribellione antifascista però non tutti si comportavano in quel modo io quando vedo il massacro che viene operato del nome della rosa di eco è assolutamente allibito perché non resta assolutamente niente del testo e oltretutto gli apparati storici che sarebbero indispensabili e che si potrebbero utilizzare tacciono cosa può essere uno spettatore comune quando si sente non le diatribe teologiche relative a fradolcino ma fradolcino come mangione o come puttaniere cosa se ne fa da che parte va a parare quello ovviamente nel libro non c'è nel libro invece i riferimenti ci sono e allora quando ci troviamo di fronte a questo immenso materiale il riferimento è anice tanto per cambiare perché perché potrebbe ritornare tutto quello che c'è qui le notizie che si ricevono da certi paesi che adesso andrebbero meglio studiati cosa c'è in Polonia cosa succede in Bulgaria cosa fanno i cecoslovacchi sono assetato di notizie ma ce ne sono pochissime e e mi piacerebbe che le notizie fossero di tipo romanzesco perché perché quello che lui dice di Portofino bombardata è qualcosa di importantissimo è qualche cosa che non trovi altro che in questa zona e ovviamente a partire dalla splendida copertina disegnata stupendamente a partire da l'autore che invece era uno specialista Gino Kelassi a partire dalla astuzia pedagogica che è per me di cui è permeato questo libro vediamo cosa succede al balillino che è protagonista di questo libro di propaganda accortamente inserito nella più amata collana di narrativa infantile del tempo la biblioteca dei miei ragazzi salani il giorno dopo Saettino trovò a casa una chiamata urgente alla casa del balilla abituato ormai a si fatte chiamate non se ne preoccupò molto ma con la consueta premura si presentò alla sede lì trovò il suo capo manipolo insieme col centurione e lo interrogarono con un fare che aveva del misterioso sei stato tu gli disse il capo manipolo a eseguire il pagamento della tassa d'ammissione tra le piccole italiane della bambina Mirina Parrini si signore e hai dato in pagamento un biglietto da dieci si signore mi hanno dato il resto non ci interessa del resto il biglietto che hai dato è questo il capo manipolo mostrò al ragazzo un biglietto da dieci dire cosa volete che sappia io sono tutti uguali può anche darsi che sia codesto anche quello che detti io mi pare infatti che fosse un po' consumato ma che sia proprio il medesimo non potrei giurarlo e questo fu subito messo da parte perché forse non è buono tu lo sapevi che era falso io ma vi pare se lo avessi appena sospettato non l'avrei dato in pagamento dunque il biglietto è veramente falso ora noi preme di sapere con certezza la provenienza dei biglietti cioè chi lo ha messo in circolazione per primo ma non bisogna fare pubblicità sono indagini da eseguirsi con la massima segretezza mi capissi sì signore possiamo fare assegnamento su di te certamente sono un balilla tu ti sei turbato sappiamo che sei un vero balilla e perciò energico e serio perché allora sei turbato cosa sai signor capomanipolo trovarsi a un tratto impicciato in un ambroglio simile non è cosa che possa far piacere quando sei innocenti non c'è nulla da temere per tua regola e io infatti non temo nulla per me ma per le seccature che possono avere altri ah dunque ci sono altri in ballo io lo provvedevo e allora procediamo con ordine chi ti ha dato questo biglietto una persona sulla quale non può cadere alcun sospetto chi è questa persona la nonna di mirina una povera vecchia tanto buona e distinta si chiama Filomena Parrini i due ufficiali presero appunto a questa signora tanto buona e distinta chi ha dato il biglietto non lo so bisogna informarsene ma intendiamoci bene senza mettere in sospetto quella distinta signora gliel'avrà dato qualche bottegaio e allora è assolutamente necessario sapere chi è glielo domanderò e sono sicuro che me lo dirà perché se ne ricordi deve fare in modo di saperlo ad ogni costo procurerò poi devi venire a riferircelo sì signor capomanipolo sappi che in questa faccenda sono forse in ballo degli interessi dello stato fascista assai più importanti di quelli si potrebbero supporre dalla semplice esistenza di un biglietto falso seguendo questo tenue filo si potrebbe arrivare a scoprire qualcosa di grandissima importanza tu devi dar prova in questa faccenda di tutta la tua perspicacia possiamo fare assegnamento su di te comandi signor capomanipolo allora letto così sembra Orwell sembra 1984 1984 fa terrore nel senso che tutto è dominato tutto è osservato in una dimensione di milizia appunto e non vale nemmeno portare la divisa da Balilla perché l'idea che il sospetto ci sia pervade la pagina in senso pedagogico ci si deve domandare ma cosa vuol dire fanno un libro per far paura ai Balilla è fatto apposta per i Balilla e devono averne timore e le dittature non vogliono avere il piacevole consenso dei sudditi le dittature vogliono far paura se non si impara a decifrare cos'è che veramente desiderano cioè che Saettino sia fedele perché ha paura di essere riconvocato allora il libro non serve a niente in questo senso è un libro orwelliano e Orwell lo sapeva e lo sapevano anche quelli che hanno confessionato il libro che è un libro che bisogna studiare come ahimè e qui mi dispiace molto non sa fare l'autrice dei bambini di Salò perché probabilmente per capire davvero il piso delle dittature autentiche un poco di presenza anche se da bambini come nel mio caso bisogna averlo ora tutto questo materiale fa anche impressione perché è totalmente fuori dalla dimensione critica della lettura della decifrazione e anche della visione perché una quantità enorme di immagini e adesso si vedono di che livello sono il mio preside il compianto sempre compianto il professor Passaglia che molti dei presenti avevano conosciuto come professore Mario Passaglia diceva senza far torto a tutti gli altri tuoi libri il tuo più bello è il testo su Gino Boccacile perché Mario perché si sente che questo disegnatore che faceva sorridere che vendeva i prodotti insieme all'ideologia disegnatore della Repubblica Sociale Italiana ma anche del formaggino mio tu l'hai messo proprio alle corde tu l'hai decifrato e per persone come me è essenziale allora la sensazione avendoli tutti così è che oggi ci sia da tante parti del mondo un ritorno a queste macerie senza che si palesi minimamente l'idea di una decifrazione e questo è ovviamente terribile oltre quella parete stava uno dei miei maestri più amati Renzo Renzi il grande critico e storico del cinema con vivida paura Federico Fellini lo chiamava Renzino per indulgenza perché Renzino non aveva timore a dar giù e criticamente e comunque uno dei suoi libri più memorabili e sono tutti memorabili non tratta di cinema era un gigante come storico e come analista cinematografico ma si chiama Mussolini immaginario cioè fa riferimento a Mussolini non nella verità ma nel sogno collettivo è morto da tempo quindi non ho potuto fargli vedere che esisteva già un testo intitolato Mussolino immaginario di parte fascista questo l'ha scritto invece uno squadrista e il Mussolini che c'è qui dentro è immaginario ma in senso positivo è talmente grande che prevale il sogno sulla verità e infatti anche la copertina è molto ambigua perché evidentemente era uno squadrista anche l'autore perché era vietato mettere l'impermeabile Mussolini invece lui non se ne è curato e l'ha mostrato in una maniera molto poco virile molto poco combattentistica è un signore tranquillo e impermeabile questi sono i livelli a cui si deve guardare una richiesta che ci facciamo osservando questo tipo di narrativa è se contasse davvero e se valesse davvero come pericolosità quello che gli analisti del mio tipo hanno sempre detto il dubbio ce lo risolve il grande Oreste del Buono Oreste era veramente un fenomeno Oreste compare come direttore e organizzatore editoriale di Linus come creatore della Baldini e Castoldi come traduttore l'abbiamo visto l'anno scorso perché il testo era in uso da tre lingue almeno aveva tutte queste caratteristiche e per mia fortuna ogni tanto gli piaceva di venire a Bologna specialmente in un certo ristorante Oreste prende sul serio il piccolo legionario il piccolo alpino tanto sulle Alpi quanto in Africa orientale tant'è vero che ha curato lui l'edizione che fu fatta quando gli diede lo spazio in televisione la prefazione è di Oreste del Buono Oreste era una persona di cultura variegata e stranissima il più bel libro su Salola scritto lui secondo me si chiama La nostra classe dirigente ed è un romanzo e lì si sente quante frecce ha al suo arco questa è l'introduzione all'Oscar del piccolo alpino fatto quando compare nel 1986 il filmato televisivo a puntate il piccolo alpino il piccolo alpino ha ormai 60 anni essendo uscito nel 26 a 60 anni in molte categorie si smobilita anche nell'esercito ma il bambino in grigio verde inventato da Salvorso colgotta non accenna a tirarsi in disparte è sempre in servizio e ora è portato pure in televisione sono passate tante modi in questi 60 anni dalla nascita del piccolo alpino sono cambiati i punti di vista su tante cose per esempio sulla guerra sulle stesse forze armate infuriano polemiche si hanno addirittura dei caduti per lo sconforto e l'incapacità di affrontare una vita in caserma il piccolo alpino potrebbe apparire un libro anacronistico legato a un tempo diverso ormai tramontato il personaggio è di una tempra robusta avveredimenti resistito alla morte del suo creatore che ha lasciato questa terra a 93 anni nel 1980 salvator gotta aveva 39 anni quando aveva creato il bambino che faceva l'alpino in sfida al mondo il bambino che giocava alla guerra vera con tanto d'uniforme grigio verde un autentico sogno per un bambino borghese di allora è facile che i bambini adorino l'idea della guerra e desiderino parteciparvi per un bambino borghese del 1926 non era solo un gioco ma un dovere le case risuonavano ancora dei racconti della prima guerra mondiale fatta dai padri zii nonni e anche fratelli maggiori la borghesia aveva partecipato alla guerra con particolare dedizione aveva fornito gli ufficiali all'eserito molto spesso volontari desiderosi di battersi per concludere l'impresa iniziata col risorgimento il raggiungimento dell'unità d'Italia con la presa di Trento e Trieste la prima guerra mondiale era stata lunga e sanguinosa un incerta condotta delle operazioni militari in nessun conto in cui i nostri generali a partire dal generale Samcadorna avevano ottenuto le vite dei soldati e degli ufficiali avevano portato a avere proprie carneficine per conquistare qualche trincea nemica da perdere poi il giorno dopo Pinocchio è del 1880 Cuore è del 1886 quando usì il piccolo alpino dominavano la letteratura per ragazzi in Italia rappresentando due pulsioni abbastanza divergenti sia pure nella convergenza al riconoscimento dei grandi valori dopo Collodi e De Amici si era imposto Vamba con il molto plagiato giornalino di Giamburrasca ma soprattutto con la creazione del giornalino della Domenica fucina dell'incontro fra chi si interessava a vario livello della letteratura per ragazzi con il fosismo è arrivato al potere il nazionalismo il suo alleato la letteratura per l'infanzia non poteva non tenerne conto e nel primo convegno nazionale degli scrittori fascisti per la gioventù che si sforza a Bologna nel 1938 furono codificate le direttive fasciste per una letteratura per la gioventù è inutile stare a citare gli atti di quel convegno il romanzo per ragazzi di Salvo Orgotta in parte però rispetta quelle norme ma anche non le rispetta attenzione il piccolo Pino è precedente alle codificazioni quindi ne dipende solo in parte è un libro sul coraggio ma il suo protagonista è più vicino al Pinocchio di Collodi che alle Enrico Rossi di De Amicis la storia inizia alla vigilia di Natale del 14 quando già c'era la guerra nel mondo ma l'Italia ne era ancora fuori tre persone salgono per la strada verso il San Bernardo sono i signori Michele ed Enrico Arasi alpinisti appassionati e il loro figlio Giacomino ha distrato in montagna sin da piccolissimo Michele Arasi ha deciso di passare in Natale nell'ospizio del San Bernardo a 2467 metri sul livello del mare ai confini tra l'Italia e la Svizzera insiste sulla decisione anche se qualcuno prevede bufera la tormenta li avvolge Giacomino è preso a forza da una sgangherata famiglia di gente che campa di espedienti crede morte i suoi genitori e preferisce sentirsi un reietto e stare da solo sarà per questa ragione che quando capiterà nel corpo degli alpini sarà accettato perché in certo senso è già un veterano pochi libri hanno indotto in me tanta materia di riflessione quanto il piccolo alpino una riflessione che doveva arrivare a poco a poco a farmi riconoscere nell'uomo il prossimo animale ma queste sono divagazioni che non ti restano nessuno tranne Oreste del Buono che sono io Giacomino Rasi all'inizio oscilla tra l'incoscienza e la paura via via impara il coraggio Salvatore Salvatore ha scritto 70 romanzi la maggior parte dei quali sono compresi nella sterminata saga dei vela però il suo ricordo è affidato solo a questa piccola favola che è limpida e candida un gigante bravissimo quando sono molto giù mi rileggo le recensioni che mi ha dedicato che fra l'altro sono sterminate quindi mi vuole tantissimo tempo come avviamo la conclusione un discorso che non ha conclusione riportandoci molto all'oggi non si sa se ci sono piccoli alpini che non vuol dire se ci sono dei libri enfatizzanti il militarismo potrebbero anche esserci c'è di tutto in giro ad ogni modo non sarebbe quello il punto fondamentale torniamo all'inizio e cominciamo con i se con i quali non si fa la storia immaginiamo che il piccolo bersagliere arruolato a Bologna non sia morto ma sia stato ancora una volta riportato a casa alla mamma Margherita cosa sarebbe accaduto se Margherita non avesse coltivato oltre alla sua cultura la sua intelligenza anche l'odio per chi disprezzava il sacrificio di suo figlio la scuola la storia appunto non si fa con i se però qui abbiamo qualche cosa che è capitato un po' a tutti i popoli agenti nella modernità la stasera rivedevo un piccolo tratto della biografia filmica di Lincoln straordinariamente ben fatta ma con un limite che invece non c'è in Via Colvento approvo Via Colvento e accetto con qualche riserva il filmato televisivo cosa mi piace in Via Colvento che si è stato scritto da una ragazza straordinaria che purtroppo è andata subito sotto una macchina e non ci ha lasciato altro conta molto che un film che un libro su una guerra civile poi trasformato in un celeberrimo film sia stato scritto da una ragazza conta moltissimo lei va a vedere dove l'occhio abituale non guarda è la stessa cosa che succede al piccolo alpino anche se Salvatore Gotha non è una donna però Gotha ha certe intuizioni di tipo romanzesco al femminile la scena indimenticabile di Via Colvento in cui per sedurre Rett dato che ha rubato il tesoro della confederazione quindi dei soldi ce n'ha lei si fa un vestito con le tende e lo va a trovare in galera e abbiamo un colpettino di quelli che ci volebbero anche per la Repubblica sociale fatela entrare alla sua Memi con lei è una che funziona i due si incontrano si mettono a parlare la noia Rett la noia non si balla mai nessuno ti invita non c'è corteggiamento oh Rett e Rett ci sta per cadere solo che c'è una intuizione molto femminile mostratemi le mani che sono piene di calli perché lei raccoglie il cotone quindi la caccia via se si fanno libri senza i calli non servono assolutamente niente io mi levo il cappello di fronte a Salvatore Gotta perché qui i calli ci sono sempre cosa si mangia come si soffre cosa succede davvero nei rifugi che tipo di caratteristiche hanno le quotidianità tremende della guerra la sera prima del disastro ci fu un allarme il comandante Terenzi stese a cercare la signorina Frasso gli andai ad aprire io stesso mi sembrò spaventato perché la signorina uscita di casa da mezz'ora non era ritornata qualcuno riferì poi di averla incontrata quella sera stessa sulla strada di Paraggi direzza verso Santa Margherita se ciò fosse vero sarebbe salva dove vuole che sia andata e se ne fosse andata a quest'ora sarebbe ritornata per avere le notizie di Fausto dopo quanto è successo potrebbe non sapere che il paese è stato completamente distrutto che la sua casa è crollata può darsi che quella sera ha trovato a Santa Margherita un mezzo di trasporto e sia andata direttamente a Milano a Milano in casa di tuo padre non è tornata ho chiamato io prima di partire verrà lui qui domani non sarà certo tornata nella casa paterna aveva litigato col padre la boronessa insomma dal modo con cui insisteva poteva volere persuadersi che la signorina era rimasta sotto le macergie il comandatore le leggeva questo pensiero sul viso ci mancherebbe anche che lei ci fosse salvata mentre lui è moribondo e tratto tratto i bellissimi occhi color acqua marina lampeggiavano accesi da quel pensiero che doveva assalirla a intermittenza e le mani si contraevano a formare i pugni e si arrentavano poi quando si riaprivano come gli occhi e ridiventavano normali ed era interessante questa corrispondenza fra lo sguardo e il gesto fra l'espressione degli occhi e quella delle mani il comandatore non aveva aperto bocca se ne stava seduto su una poltrona proprio tra la baronessa della quale non distoglieva i suoi grossi occhiali stanghetti di tartaruga la sua attenzione era la fissità del suo volto come quello che uno seduto in poltrona di teatro assiste a uno spettacolo appassionante la quotidianità in guerra dalla gloria del piccolo alpino che va a combattere e torna vittorioso allo squadrista che combatte in un modo completamente diverso al legionario in Africa orientale che si forma ascoltando gli insulti anti-italiani nel porto di Nizza passando per due bambini che vanno loro a fare i legionari in Spagna a combattere insieme a Franco libri strani libri inconcepibili al momento oppure semplicemente travestiti oppure diventati altri strumenti che conosciamo bene con altre voci e con altro visivo ecco la necessità di studiarli nasce dall'idea che potrebbero costituire un paradigma non ci sono da questo punto di vista autentici invecchiamenti il piccolo alpino di Salvatore Gotha è un libro estremamente importante per la storia dell'educazione del novecento come diceva tanti anni fa Oreste del Buono la sua attualità è nascosta va cercata misurando noi stessi nel presente con questa enfatizzazione e con questa solo apparente facilitazione la storia della letteratura per l'infanzia si studia peggio oggi di quello che si facesse quando ho cercato di avviare il discorso proponendo una cattedra sotto 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 si pensa che non sia più necessario studiarla perché è data per certo la morte dei libri o almeno una irriducibile obiezione in uno col disprezzo assoluto per le riduzioni televisive di eco a cui ho voluto anche molto bene come amico soprattutto se la mistificazione nasse dall'ignoranza nasse dal non sapere operare nasse dalla incapacità di manovrare i media come è palese in questo lavoro allora il pericolo è qui nascosto nel senso che questa terrificante propaganda a non conoscerla potrebbe riapparire nascosta sotto altre copertine inserite dentro altri strumenti messa al servizio apparentemente di buone cause e quindi ha ragione anche se in maniera incompleta la giovane studiosa che ci ha dato i bambini di Salò ma dice una cosa terribile e la conosco bene io non li ho studiati i libri di Salò ma dove sono la conservazione dei libri per l'infanzia a chi gli veniva in mente quando andavamo con Anna a Porta Portese tutte le domeniche l'omazzo di turno mi diceva sabato e mi dava la prima annata del Corriere dei Piccoli completa a mille lire perché ha un cuore buono ecco uno che mi ha capito chiaro perché ha un cuore buono però la conservazione non c'è stata non si può dire alla bravissima storica della pedagogia nascosta di Salò studiati anche i libri per bambini di Salò cioè entra nel sogno vero perché non si sa dove è il sogno e questo è qualche cosa di tremendo e questo è qualche cosa di orwelliano le notazioni che vedrete adesso sono perfettamente in consonanza con questo mondo sono un po' più rappresentative perché il disegnatore di cui dirò qualcosa guardandole è di tale livello di tale portata da chiedere un'analisi supplettiva che un po' cercheremo di impostare Nadir Quinto facile passare sopra a un'immagine di questo tipo dire è una banale illustrazione di un libro per ragazzi ma se si guardano le sfumature in particolare il ginocchio del personaggio sulla sinistra e l'ambiente tenuto quasi interamente su toni ocra si comprende che la bravura è al servizio di una comunicazione ben precisa che è quella di voler spostare l'avventura da libro per ragazzi in una dimensione quasi ecclesiale quasi da preghiera altrimenti il disegnatore a parte l'enorme talento e la straordinaria tecnica che possiede non riuscirebbe a darci questa idea così strana che io affermerei essere di tipo religioso quasi che facesse un'illustrazione di un libro di preghiere quasi che andasse verso il racconto di una parabola e Nadir Quinto sa fare questa cosa se osservate l'alpino a figura quasi intera sulla destra e lo comparate agli altri e vedete che gli alpini hanno un grigio verde di una gradazione diversa degli altri vedete lo sforzo straordinario di Nadir Quinto di rendere l'alterità della caserma l'alterità della divisa l'alterità degli eserciti è riuscito oso dire più lui del narratore a mettere in evidenza che il piccolo alpino è entrato negli alpini ha quindi lasciato tutta la dimensione domestica tutta la dimensione della sua età tutta la dimensione del rapporto di affetto di richiesta di protezione che lui ancora ha verso la famiglia per entrare in una dimensione combattentistica piena e questa è la forza della velatura di queste incredibili fumature perché è un aquerello con qualche tocco di tempera quindi sono difficili da adoperare entrambi e tuttavia il peso dell'atmosfera è completo e da notare la bellezza quasi alla rosai e dico poco del paesaggio di fronte all'idea che va alla guerra e ci va volutamente non ha nessun dovere non solo non glielo impone nessuno ma glielo vietano tutti e questo deve essere evidente mostrando che il paese per cui vuol morire è quello un paese amabile un paese pieno di dolcezza un paese dove il muro i cipressi l'affiorare dei mattoni il confortevole ma anche malinconico grigio dell'atmosfera complessiva tocca il cuore bisogna proprio dire e questa è la retorica dell'ottimo disegnatore che supera sullo stesso terreno quella del narratore straordinario anche dopo che si è visto tanti film di guerra dopo che si sono visti quadri i futuristi al fronte di Pinsero dopo che le guerre si sono paragonate fra loro la prima la seconda e le cosiddette guerre locali che hanno furoreggiato dal 45 a stamattina ed ecco che cosa è riuscito a fare mettendogli la pistola in mano ne ha fatto un piccolo guerriero miniaturizzato ne ha fatto un piccolo alpino posso dire che anche qui rispetto alla dimensione della battaglia Nadir Quinto ha una capacità di racconto che la pagina non ha e l'edizione che comporta queste infatti risulta più caratterizzante perché più che mai ha ragione Alice nel paese delle meraviglie un libro senza figure non è un libro e qui lo si vede anche perché Nadir Quinto non ha certo odiato gli austriaci non è stato certo nelle condizioni di farlo non era quello da allora il mondo che contemplava lui però è stato così bravo dall'andare a copiare lo stereotipo dell' austriaco che circolava nei media da allora e questa che è un'illustrazione in realtà sembra una pagina della Domenica del Corriere straordinaria anche questa perché la dimensione della sofferenza della ferita la necessità di pagare questo tipo di sacrificio è contrappuntata e c'è da dirgli che è di un'efficacia straordinaria da alcuni particolari l'ottima tenuta della divisa dei due barreglieri le scarpe addirittura lucide il contrapporte della barricata sulla sinistra molto evidente enfatizzato il grigiume ocra di questa landa desolata dove si facevano trincee che Kipling quando le visitò disse il valore italiano non occorre guardarlo nell'assalto alla baionetta lo si vede già da come fanno le trincee sono bravissimi ed è Kipling inviato da un giornale londinese in veste di osservatore una splendida immagine terrificante sul piano della propaganda bellica e questa è anche migliore per l'efficacia che ha di nuovo il rapporto tra patria raffigurata e piccolo alpino che sente di dover andare il bersagliere che appartiene a un altro corpo due volte bersagliere perché è un bersagliere ciclista è posto accanto all'edicola della madonnina e il piccolo alpino sfiora un manifesto certamente rivolto all'argolamento l'insieme è dolce è questa la patria per cui si muore è una patria di piccole amabili case è una patria di piccoli ritorno in piccoli focolari quindi la mitragliatrice retorica di questa splendida immagine funziona a pieno ritmo e qui spettacolo quasi di ogni giorno mutamento di divisa un altro corpo ancora l'idea della fanfara che era tantissimo importante per scuotere per rinvigorire per fare propaganda i tre piccoli davanti con il loro coetaneo che assume il passo di marcia e sempre questa Italia vera questa dimensione domestica autentica che deve essere costata moltissima attenzione a questo straordinario disegnatore questa è ancora più insolita perché la dotazione della moto col Sidecar era limitata e la possibilità di interventi di questo tipo rara al punto da far notizie ma siccome nella narrazione la si ritrova la contaminazione tra il mezzo meccanico che è sempre efficacissimo sul piano della propaganda e il disastro alle spalle con il conforto dell'antico ponte è qualcosa che rimanda pienamente a quelle pagine e qui siamo in un ambito quasi contiguo ma non troppo d'orino avanti sono i disegnatori convocati da la lettura che era la rivista voluta creata dal Corriere della sera e c'è il meglio dell'Italia del tempo da Luigi Bompard che la fa da padrone molte volte a tutti quelli che dal Corriere dei Piccoli o dalla Domenica dei Fanciulli passano volentieri a fare queste straordinarie immagini si noti che c'è già la fotografia la si può già riprodurre perfino a colori con guardia e accorgimento ma gli apparati retorici dell'acquerello e della tempera sono superiori e quindi si continua a produrre questi capolavori oltretutto la dimensione retorica non la si ottiene così facilmente con la fotografia con il disegno l'acquerello la tempera invece si esegue un programma si segue un dettame c'è più forza propagandistica in questa splendida immagine che in tantissimi discorsi e tante pagine e tanti articoli e poesie musiche perfino perché l'idea che perfino un cannone è di quel calibro si è stato reso dal nemico inusabile ma la primavera avviene ugualmente e con la primavera il rinnovamento delle armi così come del paesaggio del prodotto del cibo e quindi il risorgere di contro al cannone orrendamente distrutto è qualche cosa che porta la retorica bellica entro rive difficilmente superabili la lettura si noti la bellezza grafica che cambiava ogni volta ad ogni fascicolo la dicitura del titolo della rivista e l'attenzione molto molto sapiente all'idea di una guerra già tecnologica anche dalla parte degli italiani perché gli imperi centrali con la grande spedizione punitiva che portò a Caporetto dicevano tanto sono analfabeti che non conoscono la tecnologia bellica oggi necessaria e allora la lettura risponde con questa fortissima immagine e altrettanto straordinaria è questa la quale riporta a una dimensione che si vuole esaltare è quella proprio assolutamente in cui è del tutto avvolto il piccolo alpino è vero la tecnologia è vero l'ideologia bellica è vero la forza delle armi però è l'uomo è il cavalleresco soldato di ventura che ancora si muove come gli antichi che facevano queste traversate con l'armatura perché il percorso è lo stesso la qualità dei rischi non è diversa e questo è un altro degli esempi lodati da Kipling non hanno ceduto hanno costruito ridotte hanno fabbricato terrificanti trincee non si muovono di lì lo sappiano gli austriaci lo sappiano i tedeschi qui non si passa ed era scritto dovunque era il tratto caratteristico di una propaganda di guerra come è questa che è passata da un tratto dominante l'avanzata del generale Cadorna avanzo 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 alla dimensione della tenuta del generale Diaz che ha sostituito Cadorna e ha allungato le baionette come benissimo si vede in questa immagine qualche cosa di straordinario anche tecnicamente una tecnica superba e ribadito uno dei temi presentati prima e cioè la capacità di produrre tecnica l'idea che anche la penisola romantica possa agire con sapienza tecnologica e impaurire anche da questo punto di vista si deve notare che queste copertine che sono 52 in un anno andavano debitamente attraverso spionaggi attraverso passaggi e nascondimenti anche fra le mani degli austriaci e questo era saputo e questo era calcolato nel senso che il nemico deve sapere anche lui cosa stiamo per fare e a che punto siamo arrivati finché dureremo gli scarponi delfante e le fassie delfante sono altra cosa sono l'eredità di un ottocento pittorico di grandissimo livello i milanesi in particolare che qui si è trasfuso e questa era la guerra che tanto interessò Kipling non li batte nessuno non li batte nessuno perché poveretti hanno lassiato dei mestieri di questo genere fanno strade scavando fabbricano ponti creano case dopo aver tirato giù un dirupo non sono semplicemente dei infanti sono degli ex operai che hanno messo il grido verde e questo lui lo dice tante volte e questo ovviamente si capisse anche dalla qualità superba di questa immagine l'avanzata teorizzata non da Dias ma da Cadorna è pur sempre un elemento di fondo perché se si riesce come in questo caso a metterla in atto si conquista nei confronti dei nemici una posizione psicologica altissima lo sbigottimento che prende il fante nemico fermo nella trincea quando vede correre incontro a lui i fanti nemici è qualcosa di cui gli strateghi tengono conto anche i disegnatori che nel caso che stiamo vedendo sono passati ad un'altra dimensione quella di seppellire i camerati che non ce l'hanno fatta per un ritorno devozionale da segnalare alla famiglia con tutto quello che letterariamente anche nel piccolo alpino in questo senso viene prodotto da questo punto di vista splendida questa immagine di carattere innovativo perché rispetto al contesto aspro paesistico il fante sembra limitatissimo e non lo è perché di fatto tutto l'apparato è al suo servizio fra l'altro l'ha fabbricato lui e il fatto che conquisti per le proprie necessità strategiche un così aspro territorio fa già di lui a suo modo un eroe poi naturalmente bisogna comunicare al nemico che abbiamo pane e cannoni e questa è la specifica propaganda della lettura in questo senso l'uomo qui volutamente deve farsi piccolo grande è il mezzo meccanico grande è la strategia che ne consegue e e si può essere anche diciamolo pure pieni di poesia perché questa alba dove la staffetta si illumina d'immenso come in Ungaretti è alba di vittoria è alba di vincita è alba dopo Caporetto è la propaganda ai livelli massimi con l'apparenza di una dimensione non bellica di pace di poesia di natura ma invece è tutt'altro è l'inizio dell'esplorazione prima che cominci la battaglia vera cambiamento non solo di testata ma anche di mezzi nel senso che il Savoia Cavalleria qui è protagonista e lo deve essere intanto perché è l'arma prediletta del re è l'arma del risorgimento porta ancora gli elmi dall'ora calcolatamente e quindi qui l'elemento retorico è dato dalla storia dai convincimenti delle radici e qui prevale siamo in una dimensione completamente diversa il valore della pittura c'erano già stati i futuristi c'erano in atto i divisionisti pertanto quel fucile che è impossibile molto diverso dai fucili veri diventa però un'arma potente fortemente emblematizzata così come un gesto da antica guerra di prodi da tenzone e cavalleresca che il secolo ventesimo molto diverso dalla lettura vuole porre in atto e è sempre fatto così è l'austriaco catturato è vecchio pavido malaticcio messo malissimo perché anche questa è propaganda l'abbiamo preso perché non ne possono più resistete voi che ce la faremo naturalmente questa è una propaganda più subiola delle precedenti e anche più infaltilmente bugiarda perché credo che in fotografia non si sia mai visto un soldato austriaco così se non nei ricoveri di mendicità che seguirono la sconfitta ma qui siamo ancora molto più indietro e Enrico Sacchetti che è la sua firma altra firma del giornalino della Domenica del consigliere dei piccoli è un capolavoro di cattiveria sbagliando tutto nessuno ha mai visto stivali di quelle proporzioni se avessero mai visto un soldato così male inarnese l'avrebbero fucilato tranquillamente dietro le trincee austriache e ha il volto orrendo e orrenda è anche la partitura interna dove spiega che bisogna ammazzarli perché sono brutti e quindi non c'è nessuna ragione di tenerli in vita la propaganda qui ha raggiunto il livello della ferocia la data spiega anche molte cose e finalmente è accaduto la verità qui c'è quando li catturarono mio padre rammentava di averli bambino visti sfilare addirittura sul longomare a Rimini ed erano proprio macilenti feriti affamati malati avevamo vinto davvero ancora Enrico Sacchetti e chi ha vinto è questo faccia da contadino faccia da minatore da operaio emblematizzazione della lunga baionetta duro forte ma normale non è un principe combattente tornerà in fabbrica è qualcosa che si vuole trasmettere è qualcosa che si vuole dire perché la quantificazione non si rifarebbe con gli arditi o con gli eroi ma con i fanti più semplici più rigidi più capaci di tornare alla Filanda tutto questo in questa splendida copertina e naturalmente che avessimo il Liberty alle spalle che avessimo anche le eleganze dell'art nouveau si deve cogliere e questo va benissimo anzi va troppo bene per il piccolo alpino perché è una delle categorie in alto il sottotenentino in generale licenza magistrale bello sognatore poeta ma un fegataccio quando c'è da saltare fuori dalla trincea grazie dell'attenzione grazie grazie grazie